Secondo l'Ufficio Sudi Fipe, Federazione Italiana Pubblici Esercizi, per l'82,4% dei viaggiatori il ruolo, la presenza di discoteche e locali notturni è infatti centrale nella scelta della destinazione. Anzi, nella classifica dei dieci aspetti ritenuti più importanti di un soggiorno, l'offerta di intrattenimento è al terzo posto, subito dopo l'ospitalità e quella della tavola, riferisce lo studio, e i clienti non residenti nei luoghi in cui sorgono i locali contribuiscono per circa il 60% al fatturato di questi esercizi. Ma l'economia della notte non è solo discoteca, ci sono anche e pesano in maniera rilevante bar, ristoranti e locali pubblici, aperti nelle ore notturne. Ad oggi la situazione che vivono economicamente i locali, così come altri settori dopo la fine dell'emergenza sanitaria del Covid è complicata. L'economia dei locali oggi è ripartita? No, sicuramente in maniera molto inferiore rispetto agli scorsi anni, a parte locali come il nostro, perché noi in questo momento per i problemi di assembramento cerchiamo di fare, di stare molto attenti durante le serate quando facciamo della musica, che comunque noi organizziamo serate diverse dagli anni scorsi, abbiamo molti meno clienti che vengono da fuori perché facciamo anche molta meno pubblicità, spingiamo meno le serate che facciamo. Qualche tipo di locale ne ha giovato di questa cosa, perché locali come il nostro e pochi altri che avevano il pubblico spettacolo e quindi che potevano fare discoteca e in questo momento non lo fanno e quindi gli altri locali della zona che invece erano prettamente bar probabilmente ne hanno giovato. Con il cessare del lockdown, i locali pur cercando di rispettare le norme di sicurezza anticontagio, cercano di tornare nel pieno delle attività, così come la movida serale che anche a Fano riparte dai locali delle spiagge e più in voga dai giovani in piena stagione estiva. Dopo anni in cui facevamo, organizzavamo feste ed eventi, ci siamo rinventati con un nuovo tipo di ristorazione, molto più curata e diversa da quella che facevamo agli anni scorsi. Si contano presenze turistiche durante le serate? Allora, diciamo che i nostri turisti, i nostri clienti affezionati stranieri ci sono, sono tornati anche se da poco e poi il nostro è un turismo con la spiaggia libera, un turismo molto pendolare, abbiamo tantissimi clienti che vengono dall'entroterra, dalla vicina Umbria e quelli continuano tuttora ad esserci.